Noi dobbiamo guardare anche l'espressione della gara. Con il Napoli abbiamo fatto una grande partita, giocando veramente alla pari con il Napoli e siamo calati nei minuti finali dove abbiamo avuto la possibilità di vincere e poi abbiamo perso. Oggi è stata meno importante come prestazione. Abbiamo subito di più il gioco della Fiorentina, siamo riusciti a contrapporci meno sul piano del gioco, soprattutto al primo tempo, però al secondo tempo c'erano di nuovo le opportunità, stavamo giocando meglio, c'erano gli spazi, la Fiorentina mi sembrava stesse un po' calando. Poi la Fiorentina è una squadra che costringe molte formazioni, anche blasonate, a difendersi. Nel momento in cui avevamo la possibilità anche di inserire forze fresche in attacco siamo rimasti in dieci. Non ci piace tanto questi tipi di soluzioni in trasferta. Sono pesanti da sopportare in questo tipo di partite. Per fortuna poi abbiamo portato il punto a casa e quindi fa meno male. Se no avremmo molto più da recriminare, perché poi le partite 11 contro 10 diventano sicuramente meno belle, anche se abbiamo avuto poi un'occasione con Rosi. Però è chiaro che abbiamo rischiato di più. Grazie. Grazie.